Un'altra squadra rispetto alle ultime uscite Pronto a battere proprio Baggio Palla ancora tagliata per Silvestre che non arriva a Coela Roma non si è scossa dopo il gol dell'1-0 dell'Inter Sanetti prova un pallone a seguire Buona ancora, non c'è fuori gioco Baggio allora in area di rigore Pronto a traversare, arretrato Samorano gira e va Samorano 2-0 Grande gioia immagino per i tifosi dell'Inter Ma anche grande rammarico per quello che poteva essere quest'anno Baggio, Samorano, Ronaldo in campo insieme 22 minuti di gioco sul cronometro 2-0 per l'Inter sul campo di una squadra Data come forse la più in forma del momento Che doveva cercare assolutamente di vincere Per arrivare in zona Champions League Che invece ora si trova pesantemente sotto in casa Colpito anche male Samorano Spiazzando nettamente Consell Eccolo qui, Samorano Per il 2-0 Però ancora una volta tutto è partito